Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti su un video molto speciale Oggi abbiamo anche una comparsa Alla faccia della comparsa E beh Presentati, presentati da solo Salve brutte bestie, sono Franks E incredibilmente oggi, mamma mia Sono con Andry The Mythic Per chi lo conosce sotto un altro nome è Perfect Loquendo Questo che li è già mai un pochino più di fame L'altro odiato Ecco, ma com'è io l'altro odiato account Andry The Mythic Allora, oggi siamo qui per lo... Aspetta, come cazzo è che l'ho chiamato? Tanto voi state vedendo l'immagine Lo Shen Indie Contest Cosa consiste? Beh, come capirete Voglio regalarvi un paio di giochini acquistati in precedenza Abbastanza precedenza Sul sistema Desura Chi lo conosce? Lo conoscete? Tu lo conosci? No Ok, praticamente Desura è come Steam Soltanto che è fissato sulla vendita di giochi indie Quindi appena esce un indie Prima di apparire su Steam Se appare con tanto culo su Steam Lo troviamo praticamente subito su Desura Bello E io ho molti codici di due Un sacco di indie vari Da VVV a Isaac The Binding of Isaac Cave Story E tanti altri E in più, oggi Frank ha deciso di offrirsi a questo contest Per offrire una sua copia di Terraria Su Steam Quindi vi avviso che per Terraria Ovviamente se vincete Dovete avere Steam con almeno qualche gioco comprato Non è che mi dite tipo Cos'è Steam? Ho fatto i parponi come a me Che io non avevo neanche un gioco comprato E me lo sono preso nel culo Esattamente Direttamente nel culo Comunque I premi sono vari Che per ora non li sto a elencare Che pacchetti sono Perché ne ho abbastanza tanti di pacchetti di giochi vari Quindi vi lascerò poi a voi i vincitori Scegliere quale gruppo di indie volete E in più uno di voi vincerà Terraria E migliore tra di voi tre Perché sono tre le categorie di giochi Wow Di video Potete fare uno di questi tre tipi di video Oppure potete fare tutte e tre Per cercare di vincere ogni categoria A vostra scelta La categoria è un video gameplay Un normalissimo gameplay Barra let's play Insomma un video qualsiasi Di un tipo non so La puntata 15 di Amnesia La puntata 18 di Pokemon Marromerda Insomma avete Uh quello mi piace Ecco Questo qua è già pensato E potete scegliere voi Il secondo è un cavolo di machine Ma frag movie Come lo volete chiamare Vediamo quanti kill riuscite a fare Su Call of Duty Barra Battlefield 3 Eccetera eccetera E il terzo Che è quello che mi interessa Un pochino personalmente A me È un lavoro grafico Perché mi interesserebbe Un attimo aggiornare Anche la grafica del mio canale E avere qualche nuova immaginina Banner Compagnia bella Va che approfittatore Va 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 Ok Eh oh senti Ne approfitto Questi concorsi Insomma Seguono anche per questo Eh mi sono anche giusto Eh mi fanno anche giusto E poi ovviamente In questo gruppetto Di tre sfide Potremmo si fare A tutte e tre Ripetiamolo Perché Certi non me lo vengono Per chiedere Perché poi La gente viene a chiedermi Ma posso fare Sì puoi Compagnia bella In un'unione di queste Tre categorie Ci sarà un vincitore Che avrà A scelta sua Uno dei pacchetti Indie bundle Di Per 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 Il coso di tesura Come cazzo Si chiama Piattaforma Come cazzo Non lo vogliamo chiamare Programma Boh Non mi spiego Forse piattaforma Piattaforma multimediale Sì È il migliore Di voi tre Anzi Del primo e del secondo Perché il lavoro grafico Non credo che si possa valutare Come Tra i video Avrà anche La copia Di Terraria Di Frank Franks Ciao Scusa Mancato l'ice Allora Come partecipare al concorso Scrivete qua sotto Partecipo E allegate Un video di risposta A Codesto video Alta regola importante Importante Perché vi controllo Vi controllo Vi controllo Se volete Se volete vincere Terraria Ripetiamo Se volete vincere Terraria Dovete scrivervi Al canale di Franks Che trovate sotto In descrizione Quindi se voi Arrivate i primi E non vedo L'iscrizione Niente da fare Niente da fare Lo prendono nel culo Esattamente E siamo due volte Che dice che lo prendono nel culo Poverini Hanno capito Come va l'andazzo Esatto Quindi ragazzi Ormai vi impari di aver detto tutto Per dubbi Incertezze Domande Scrivete qua sotto Leggete la descrizione Perché scrivo tutto quanto lì Ti assumo sempre tutto Perché molti Non ascoltano Neanche i miei video Cioè proprio così Aprono Leggo la descrizione Chiuso Partecipo Fanno Ok ormai ho detto tutto Quindi partecipate in tanti Per la fine del contest Facciamo fine marzo Dai Al pesce d'aprile Il giorno in cui c'è pesce d'aprile Il pesce d'aprile si pesce L'aria Esatto Perfetto Perfetto Quindi mi raccomando Partecipate in molti Anche tutte le categorie se volete E iscrivetevi al canale di Frank Che fa degli ottimi video Mi raccomando Mi raccomando Certo Iscrivetevi 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 Lo dico ancora Iscrivetevi Ok ormai ho finito Posso salutarevi Io ormai Iscrivetevi Ci siamo Ah un'ultima cosa Perché questo contesto Un po' così Ha scazzo Perché Perché mi hanno dato la parte Ma per averla effettivamente E aspettare Di avere qualche tipo Aumento improvviso Di visualizzazione Di compagnia bella Quindi Questo contesto Mi migliora anche La mia stessa situazione Si mi danno la parte Ci prendi i soldi Prendi i soldi Faccio i concorsi Con giochi anche più seri Se vedete un porno Caricato da Shen Capite Esattamente Esattamente Anche così Quindi ormai Tutto è stato detto E vi possiamo anche Lasciare andare Alle vostre faccende Compiti Altre video di Youtube Una sega C'è chi anche Altre Ecco Ecco non si sa mai Se fa il palegname Non lo so Se fa il palegname Infatti Poi c'è anche Chi scopa Magari qualcuno aiuta in casa Giusto Giusto Ok Ormai vi salutiamo E al prossimo video Ragazzi Bye bye Ciao ragazzi